Centralina smart o domotica? Qual è la scelta migliore per l'irrigazione? Ciao a tutti e benvenuti su tuttirigazione.it. Oggi affrontiamo una domanda che molti di voi si pongono. È meglio utilizzare una centralina smart o integrare tutto nelle domotica di casa? Restate con me per scoprire la soluzione più sicura e funzionare per il vostro impianto di irrigazione. Partiamo dalle centraline smart indipendenti. Questi dispositivi offrono una gestione separata e dedicata all'irrigazione che comporta diversi vantaggi. Il più importante la sicurezza. In casi di malfunzionamento dovuti ad esempio da un temporale il rischio è limitato alla centralina o al massimo al suo alimentatore. In questo modo il resto della casa rimane protetto e funzionante. Inoltre la gestione di una centralina smart è molto più intuitiva. Puoi accedere facilmente tramite app, tramite bluetooth, wifi e non hai bisogno di modificare l'intero sistema domotico della casa per farlo funzionare. Ora parliamo dell'alternativa. Collegare l'irrigazione a un sistema domotico della casa. A prima vista sembra una soluzione comoda ma nasconde alcuni rischi. Le correnti vaganti nel terreno possono risalire attraverso i cavi delle elettrovalvole e senza un'adeguata protezione possono causare danni alla centralina generale della domotica. Questo non solo mette fuori uso il sistema di irrigazione ma può anche bloccare altre funzionalità della casa portando a costose riparazioni. Inoltre espandere un sistema domotico per includere l'irrigazione richiede componenti aggiuntivi come filtri di protezione e moduli di espansione oltre a una programmazione personalizzata. Tutto comporta ulteriori spese sia in hardware che in supporto tecnico. Un altro grande vantaggio della centralina smart dedicate è la possibilità di gestirle facilmente anche da personale esterno. Questo è particolarmente utile se hai un giardiniere o un tecnico che si occupa della manutenzione del tuo impianto. Possono controllare solo l'irrigazione senza avere accesso ad altre funzioni della tua casa. Questo garantisce ulteriori sicurezze e flessibilità per mantenere il tuo prato sempre verde e in salute. Per concludere una centralina smart dedicata all'irrigazione è la scelta migliore per chi cerca sicurezza, facilità di gestione e costi contenuti. Evita rischi di sovraccaricare il sistema domotico della casa e opta per una soluzione indipendente che ti permette di mantenere il controllo del tuo impianto in maniera semplice ed efficace. Se vuoi approfondire questi argomenti e scoprire altri consigli per ottimizzare il tuo sistema di irrigazione iscriviti al nostro canale nel link qui sotto in bio per scoprire i nostri corsi di formazione. Diventa un esperto di irrigazione con tutto irrigazione.